Si chiamava Giorgia Galloway, aveva 19 anni di età, aveva disturbi mentali, si è uccisa, si è ammazzata per colpa delle restrizioni del Covid-19 che non le hanno consentito di avere delle sedute psichiatriche in presenza del suo psicologo. Non ha potuto fare la terapia che seguiva da ormai un po' di tempo per colpa del lockdown del blocco totale. La ragazza quindi si è ammazzata. Ha seguito il suo percorso telefonicamente e per questo è stata causa di un grave disagio. Dall'altra parte del telefono c'era per ero sconosciuto, tutto ciò ha contribuito affinché si aggrava a salire lo psicologico. E dai la madre oggi a dire non ci sto, è stata una vicenda questa, tristissima. La mia figliola si è ammazzata per colpa del fatto che c'è stato questo lockdown dove la ragazza dove mia figlia ha sentito il medico solo al telefono senza poterlo vedere. È stato che probabilmente questo sentirla, sentire la voce del medico al telefono non ha fatto bene la donna ma era ragazza in questione e si è ammazzata. Doveva essere un colloquio dal vivo, reale, non virtuale. Grazie a tutti, non telefono. Iscrivetevi, commentatevi se vi va, mi raccomando. Giorgia Galawey, riposo in pace e amore.